Questo programma è offerto da Aspiag Despar Buonasera, ben trovati a Primus Interpares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto, vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Questa sera, anche questa sera, parleremo di un tema molto importante, un tema sicuramente che interesserà soprattutto la parte femminile, perché parleremo del tumore al seno. Ovviamente non potevamo non invitare il dottor Fernando Bozza, direttore di chirurgia senologica dell'Istituto Oncologico Veneto. Buonasera dottore. Buonasera, buonasera, grazie a voi dell'invito. Grazie prima di tutto di essere con noi, che sarebbero molte cose a raccontarci, guardate qui abbiamo già delle protesi sul tavolo che vi faremo vedere e ci spiegherà tutto. Non vorrei separare un venditore. No, non è un venditore, ci mancherebbe altro, anzi le prendo già in mano così le faccio vedere. Tipo scazza pensieri. Così se riuscite a fare il primo piano, questa è una protesi purtroppo per chi ha quel male che abbiamo appena accennato. Ma ne parleremo, parleremo dell'alimentazione, della prevenzione, parleremo di tante belle cose con il dottor Fernando Bozza. Prima però, come di consueto, andiamo a vedere, perché voglio trovarci l'assessore Ciano Contin, sentiamo cosa avrà da dirci questa settimana. Ascoltiamolo. Grazie della linea Giorgio, un saluto a voi in studio, qui accanto a me naturalmente l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico molto buio. Femmo Ciaro, sempre. Benvenuto, assessore. Ciao a tutti i voti che ci ascoltano da casa. Sì, naturalmente, un saluto a tutti. Chiaramente, assessore, 8 maggio, ormai siamo nel pieno della primavera. Bravissima, bravissima. Attaccano arrivare i turisti, no? Sì, sì. Sì, sì. Sì, solo nel nostro comune, solo ad aprile, 12.000 visiti abbiamo avuto. Ah, ma sono tantissime. E maggio ancora di più saranno. Ma come mai siete convinti che a maggio ce ne saranno ancora di più? Eh, sono un po' nelle previsioni di tutti. A partire il prete mi ha detto, ah, a maggio c'è un mese di Amadonna. No, no, aspetti, aspetti, assessore, non è che c'è un mese di Amadonna. Cioè, è proprio il mese di Amadonna. Ah, proprio c'è più turisti di tutti? No, nel senso che non è un mese per tutti i comuni. Ah, che tanti turisti. No, ma cosa perdo tempo a spiegarvi? Comunque, va bene, assessore. 12.000 turisti, io tra l'altro neanche sapevo che il suo fosse un comune turistico. Ma lo è da quando che mi hanno dato a me la delega al turismo, perché ho fatto delle politiche per tirare i turisti. Bravo, quali sono queste politiche? Vogliamo raccontarle? Ma allora, volentieri. Partiamo intanto da una supposta. No, no, guardi, assessore, io partirei da un presupposto. Come preferisci. No, preferisco il presupposto, devo dire la verità. Allora, all'estero non hanno tante attrazioni turistiche come che ce le abbiamo noi culturali, storiche. Diciamo che in Italia siamo ricchi da questo punto di vista. Esatto, noi abbiamo uno sbardaglio dappertutto, ma tanta gente non si è inaccordo neanche che ha dietro casa il monumento, no? Perché non c'è segnaletica, non c'è valorizzazione, no? Ah, quindi lei dice che anche per un problema di segnaletica, quindi un problema a livello di comunicazione, non ci accorgiamo delle bellezze che circondano il nostro quotidiano. Il nostro quotidiano. Allora, vede, le faccio un esempio. In Svissera ci sono stato poco tempo fa, c'era un paese in due che non c'era niente, ma era pieno di turisti perché dicevano che c'era la Piera della Concordia. Ma c'era questa Piera della Concordia? Non c'era nessun altro, manifesti, cartellonistica, dappertutto, in questa Piera due, tre anni fa ebbero fatto la pace perché prima facevano la guerra su tutti i cantoni, c'è che lei che ha i cantoni in Svissera, è un paese molto irregolare. Ma che irregolare? E ora no, e ti arrivi tutto contento, pensi di vedere una marmojada e un ruinasso, un tocco e forato, non c'è neanche uno senta insieme, non c'è. L'unica roba interessante della Piera, c'è qualche tosato italiano ebbed in gita che ha scritto Mattia Monna. E' un classico. E questa è l'unica roba carina della Piera. Allora, cerco di parafrasare un po' quello che vuole sostenere l'assessore Cianocantini. Cianocantini che probabilmente in Italia non siamo in grado di valorizzare adeguatamente non solo il nostro territorio ma le bellezze anche culturali. E mi ho seguito. Più o meno, più o meno ho detto questo. Allora nel nostro comune abbiamo un'iniziativa fatta da poco e abbiamo speso 500 mila euro di marketing, di siti. 500 mila euro? Ma per fare cosa? Può comunicare in tutto il mondo che da noi vive l'uomo più alto del mondo. Cioè, scusate, voi avete davvero l'uomo più alto del mondo? Ah, no, io mi eravamo più alto del mondo anche perché non mi ha girato tutto il mondo a misurare, a sentermi. Ma cosa c'entra? Ma a parte che ci sarà un, voglio dire, ma lasci stare, ma poi non potete dire, dare delle notizie false? Ma non è falso, lo puoi anche vedere in comune. Ma c'è o non c'è? Sì, Renzo le ha proloco. Sempre lui. Sempre lui. E usa 1,73. Eh? Ma che ho messo su una tecca trasparente in municipio, no? Ma uno lo vede. Eh, ma ti vedi da piedi? Non ti vedi mica in fondo. Ti vedi i piedi, usa di stirare quelle scarpe così, no? Magari la gente paga anche per vedere. 15 euro. Ma per piacere, ma è ignobile, assessore. Grazie. Ma no, non è un complimento, non è un complimento. Non puoi dire. E Renzo stai a tutte le mattine, no? Se mette a... Ma che poi ho detto anche a Renzo, cioè, che sta sempre là, cosa fa tutto il giorno? Dorme? Cioè, non mi pare che... Qua baia che ci appa tutte le serie, questo è tutto quel passato il giorno. Che dorme a casa, che dorme in municipio, ma anche ci fa rendere qualche schello. Noi usa di stirare. Voi siete convinti che 12.000 turisti nel mese di aprile siano venuti tutti quanti per vedere l'uomo più alto del mondo? Allora, abbiamo un dubbio perché abbiamo fatto anche un altro piccolo evento, però non so se è stato quello... Che evento è? Un evento che unisce sport, turismo e cultura. Ah, bello. Abbiamo radunato le 100 bodybuilder, no? Le donne e femmine che fanno bodybuilding, bellissime atlete. Molto belle. E hanno fatto una gara in palestra da noi e poi hanno fatto anche la sfilata in costume. Serto, quindi un evento che unisce... Immaginavo, immaginavo, assessore, sì, immagino. Quindi un evento che unisce cultura, sport e turismo, come si chiama? Culturismo. Proprio il sport è stato l'oggetto del... Sì, immaginavo. Grazie, assessore. Grazie, assessore. Noi tiridiamo la linea, Giorgio. Un saluto a voi in studio. Sì, esatto. Alla prossima settimana. 12.000 solo in aprile, sai. Ma vedo a Renzo della Proloco, certo. Sì, sai, attira a Renzo della Proloco. Ma per piacere, assessore, per piacere. Adesso chiamo in programma anche di dare una smettata a teca perché ha aragnetti, formighe, sorsetti, ma si animali dopo. Ma si animali, insomma, una volta che ha tolto quelli, rimane a Simiac che intorno... Per piacere, assessore. Va bene, salutiamo Marco Pippo e Gaetano. Vi ricordo che prima delle nostre programmazioni serali fanno lo sketch, quindi guardate, loro è molto seguito e ovviamente loro sono molto bravi. Noi abbiamo il piacere di averli nella nostra televisione. Allora, avete visto l'ospite questa sera, il dottor Fernando Bozze, direttore della chirurgia senologica dell'Istituto Oncologico di Padova. Prima di iniziare, fra poco avremo anche il titolo del tema che parleremo. E com'è nata la sua passione per questo lavoro? Iniziamo così, dottore. È nata da sempre, nel senso che non ho mai avuto dubbi su cosa fare dopo la laurea come specialità, né ho mai avuto dubbi per la verità su cosa scegliere come corso di laurea. Io ho fatto, anche se non sono padovano, mi ritengo padovano di adozione perché abito diciamo nell'Interland, anche se è provincia di Vinetta, in realtà è Santa Maria di Sala, ma ho fatto dalle medie, ginnario, liceo, tutto qui a Padova, al Berbario, tanto per essere chiari. Dopodiché sono entrato subito a medicina, non avevo dubbi su cosa fare, come non ho avuto dubbi. Già da bambino aveva le idee chiare, insomma. Evidentemente sì, evidentemente sì. E poi nasce, diventarsi laurea? Mi laureo, già prima della laurea comincio a frequentare un reparto di chirurgia, in particolare quello del professor Carlon, che è stato il mio primo maestro. Mi dica, quando ho visto il primo taglio nel corpo umano, proprio il primo in assoluto, cosa ho provato? È svenuto oppure era già preparato? No, 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 per la verità no, no, assolutamente no. Perché nel dirlo è facile, poi vedere un chirurgo che taglia per la prima volta un corpo umano. No, in realtà dava più fastidio subire qualcosa, tipo, avendo sempre io giocato a calcio ho avuto qualche infortunio. Che ruolo giocava? Attaccante di raccordo, diciamo. Alla destra o alla sinistra? Sì, a destra, indifferentemente, però di corsa. Di corsa, di corsa. Sì, più che statico, ecco. E gioco tuttora. Ah, gioco tuttora. Sì, sì. Mi vanto di giocare ancora. Complimenti al confisimento, sicuramente complimenti. È sempre stata la mia passione. Io penso che una volta ho visto una partita tra medici e avvocati, un amichevole al Fasola a Padova, a un certo punto ho visto litigare tra di loro, ma è un amichevole, quindi mai arrabbiati che non le dico. No, ma litighiamo tuttora, anche per banalità, un pallone che è sulla linea, è fuori, non è fuori. Vabbè, se vuol dire che c'è ancora tutta via. Ma del resto lo scopo è quello. Certo. La scappola di Moliatti non ci interessa. Certo, è vero. E quindi un minimo di agonismo, di sano agonismo, dopo tre secondi naturalmente siamo a mangiare insieme, è il bello dell'evento. Allora, diceva, si laurea e diventa… Mi laureo, le ripeto, ancora prima della laurea sono a frequentare un reparto chirurgico, appunto quello del professor Carlò, dove faccio la tesi, una tesi chirurgica, per cui rimango là, poi frequento la specialità in chirurgia generale, poi faccio una seconda specialità in chirurgia toracica, nel frattempo il mio desiderio era sempre quello di lavorare a Padova, però naturalmente anche allora, parlando di qualche anno fa, non era facile avere un posto di ruolo, per cui ho fatto per tanti anni delle guardie mediche in una casa di cura, facevo quindici notti al mese, una settimana no, si è fatto il mazzo, chiamiamolo così, mi è servito a tonere indietro subito, soprattutto per gli anni che ho fatto in pronto soccorso, perché facevo pronto soccorso, diciamo, periferici, Mirano, Noale, tanto per dire, pronto soccorso, allora era un pronto soccorso vero. Mi raccontate, scusate, il professor Gerose che è stato qui un po' tempo fa, ha detto che ha iniziato a fare le guardie a Fiera di Primiero. Ecco, beh, io ho avuto la fortuna di fare le torne di pronto soccorso vicino a casa, però comunque erano tempi eroici o quasi, quando arrivavano, mandavi fuori l'ambulanza magari per delle chiamate, arrivavano i feriti accompagnati dalle macchine. Per arrivare, dottore, bisognava battagliare una volta, come giusto sia magari. Sì, ma anche adesso credo, ma comunque voglio dire, una volta non era proprio che trovavi il posto appena laureato, insomma. Poi, quindi, poi le inizia e poi come mai prende come specializzazione proprio il seno? No, piano. Allora, io ho iniziato come... Io sono già arrivato. Bravo. È stata una cosa, allora, qualche anno fa non c'erano gli indiritti che ci sono adesso, la super specializzazione che c'è adesso. La chirurgia generale era una chirurgia generale dove si faceva un po' di tutto, dalla chirurgia vascolare, alla chirurgia toracica, alla chirurgia addominale. Io ho avuto la fortuna di fare un po' di tutto, che era il mio più grande desiderio. Dopodiché, col tempo, naturalmente, ci sono costituite queste nicchie nella chirurgia super specialistica. È forse giusto che sia così. Cioè, chi si interessa di, non so, di intestino, si interessa di intestino, o chi si interessa di viabiliari, chi si interessa di seno, appunto. Quindi, dopo qualche anno che ero lì in chirurgia, abbiamo cominciato a fare degli ambulatori oncologici, perché anche allora non esistevano, naturalmente. La chirurgia era la chirurgia in generale, sia dell'appendicite come del tumore dell'intestino. Ecco, appunto, dopo parleremo dell'attuale formazione di questi reparti. Una volta un medico seguiva tutto, appunto, le ripeto, dalle varici al tumore e al seno. Generico, sì. Adesso... È specializzato, ognuno nel proprio... Sì, diciamo che sono un chirurgo generale prestato alla sinologia. Ah, certo, certo. Mi definisco così. Più o meno così, insomma. E quindi inizia a prendere questo tasto, che è un tasto... Ora ci sta un po', non il tumore, però, chi ha il tumore seno oggi ha molte probabilità di vita, mentre una volta era un po' più difficile, insomma, giusto? Sì, dipende da un insieme di cose, naturalmente, non c'è un unico motivo. Ecco, uno fra questi è che, appunto, questo tipo di malattie viene trattato in un reparto specialistico, che si interessa solo ed esclusivamente di quel tipo di patologia. Ed è dimostrato da studi mondiali che c'è un aumento della sopravvivenza di persone trattate in certi centri rispetto ad altre trattate in centri non super specialistici, addirittura del 18-20%, che non è una banalità. Certo, quindi... Questo è altre cause, naturalmente, l'affinamento di tecniche... Senta, dottore, con la prevenzione si può vedere o anche, delle volte, non si può vedere? Cioè, una viene lì, fa la prevenzione, va a fare gli esami, mi è capitato un'amica, le dico per questo, che ha fatto degli esami, non aveva nulla, e non ha visitato, non aveva nulla, poi lei per scrupo ne ha fatto uno particolare e ha scoperto che aveva qualcosa. È ancora possibile che accada questo nel 2019? Certamente, non accade solo nel nostro campo, accade purtroppo anche in altri campi, naturalmente. Nel nostro campo specifico... Ma incidono in minime parti? Chiaramente, chiaramente non è la regola, ci mancherebbe altro. Certo, sì. Però può succedere, per mille motivi, perché i tumori non sono tutti uguali, se sono determinati i tumori, parlo nell'ambito del mammario... Perché non sono tutti uguali? Non si manifestano tutti nella stessa maniera. Non si manifestano tutti. Sempre solo con il nodo che cresce, che è duro, che si... Le interrompo maleducatamente. Ha un tempo, perché man mano che lei parla, poi mi viene da fare domande. Ha un tempo la crescita di questo tumore? Esattamente. Questo vuol dire che ci sono i tumori più aggressivi e i tumori meno aggressivi. Va da sé che i tumori più aggressivi hanno un tempo di sviluppo molto più rapido rispetto ai tumori meno aggressivi. Ci sono i tumori, primo, secondo, l'età, perché un conto è un tumore che si forma a 80 anni, faccio un esempio, e un altro discorso è un tumore che si forma a 30, 35. Perché? Perché è molto più rapido lo sviluppo in un tumore che si... Parlo della mammella, è un tumore che si forma in giovane età rispetto a un tumore che si forma in tà più avanzata. E quindi è più pericoloso? Sì, certamente. Diverso è il discorso di altri tipi di tumore, per esempio la tiroide, ma qua ci fermiamo se non entriamo in campi diversi. No, mi dica il tempo dunque... Ah, sì, dunque. Il tempo di duplicazione delle cellule, le ripeto, è variabile, dipende dall'aggressività delle cellule. Ci sono dei tumori aggressivi con tempi di crescita molto rapida, per cui è possibile che uno faccia un accertamento, mammografia, ecografia, oppure una visita. A volte si sente dire, ma sono stato il mio ginecologo e mi ha visitato, non c'era niente, adesso sono partito da quattro mesi e mi sento questo. E purtroppo è possibile, questo è possibile. Non è detto che non ci fosse, per carità. L'aggressività più o meno veloce, da cosa è causata? È dal tipo di cellule, dal tipo di tumore. Ah, dal tipo di tumore, perché c'è proprio un tumore che ha una velocità e un'aggressività molto superiore. In effetti i tumori sono, rispetto a una volta dove si conosceva, in pratica si sapeva se un tumore è maligno o benigno, ma si conosceva poco della biologia del tumore e i risultati erano scadenti anche per questo motivo. Adesso della biologia del tumore conosciamo abbastanza, per cui siamo più facilitati, tra virgolette, a cercare, a trovare delle terapie specifiche e personalizzate. Adesso sappiamo quanti, non so se mi vado troppo nello specifico, ma conosciamo il grading, cioè il tipo di aggressività cellulare, che è un dato, conosciamo il percentuale di recettori per gli estrogeni e per il progesterone, conosciamo un altro indice di aggressività, abbiamo un insieme di dati che ci danno la targa del tumore. Dicono poi, dottore, che un tumore dovrebbe avere, dopo 4-5 anni, se il paziente non ha nessun risconto, dovrebbe essere un paziente normale come tutti gli altri. È vero questo oppure no? Perché tutti dicono, dopo 5 anni ormai non c'è l'inom... Sì, diciamo che è un po' cambiare questo concetto. C'è qualcosa di vero, nel senso che più tempo passa naturalmente più si tranquillizza. Io dico sempre che il tempo è il migliorareato di ogni paziente, perché è una cosa che non dimenticherà mai questo incidente di percorso. Però chiaramente un conto è pensarsi dopo 3-4 mesi, un anno, un conto è pensarsi dopo 5-6-7 anni, e dice, beh, sono passati 5-6-7 anni, sono quasi fuori. Dipende anche qua, purtroppo, dal tipo di tumore che uno aveva, perché sono certi tipi di tumore aggressivi che hanno come, purtroppo, caratteristica di riformarsi in breve tempo. Hai capito? Certo. Quindi, diciamo che il discorso... Diciamo che la sicurezza non è mai al 100%, purtroppo non c'è. Facciamo così, dottor Bossa, andiamo a vedere un filmato dove ci racconta un po' i numeri, di questa brutta malattia, che sicuramente è molto, molto diminuita rispetto a noi. Ci vediamo. Il tumore alla mammella è il più diffuso nella popolazione femminile. Secondo i dati del registro tumori del Veneto, nel 2015, l'ultimo anno disponibile, si sono registrati 4.701 nuovi casi, ossia il 31,8% dei tumori diagnosticati. La percentuale maggiore si è registrata nella fascia d'età 0,49, fascia in cui nel 2015 oltre il 41% dei tumori diagnosticati ha colpito il seno. L'incidenza nel 2015 è stata di 163 casi ogni 100.000 abitanti, senza rilevanti differenze tra le province, ed aumenta con l'avanzare dell'età, tanto che nel bienio 2014-2015 ha raggiunto il picco nella fascia 65-69, con 395 casi ogni 100.000 abitanti. L'età media alla diagnosi è di 63 anni e si è mantenuta costante dal 2000 ad oggi. Il rischio accumulativo di tumore alla mammella equivale a 7, il che significa che è necessario seguire 7 donne nel corso della loro vita per trovarne una che sviluppi un tumore alla mammella. Nonostante sia la neoplasia più diffusa tra il genere femminile, tuttavia ha i tassi di sopravvivenza tra i più alti. A 5 anni dalla diagnosi è dell'88,9%, al quarto posto dietro al tumore alla tiroide, al melanoma cutaneo e all'infoma di Hodgkin. La maggior sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi si registra per le donne, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, con un tasso del 93,1%. A 10 anni invece il tasso di sopravvivenza è dell'80,6%. In questo caso però si equivalgono le percentuali delle fasce di età 15-49 e 50-69, con più dell'86% delle donne. Nel corso degli anni è sensibilmente aumentata la sopravvivenza nel lungo periodo. A fine anni 80, a 5 anni dalla diagnosi, erano ancora in vita poco più del 70% delle donne. Che brutto dottore parlare di questi dati, sono dati del 2015, sono gli unici che abbiamo e che la Regione ci ha fornito. Sentire parlare di numeri, 70% probabilità di vita, fa un po' pensare. Però mi sembra che la mortalità sia davvero percentuale, diminuita in maniera sostanziale e significativa. Il maestro di tutti noi, che era il professor Veronesi, diceva che la nostra tendenza è la sopravvivenza al 100%, cioè mortalità zero in parole e povere. Mi piace far notare come negli anni 80 la sopravvivenza era 70%, circa, anche forse un po' meno, pur facendo degli interventi molto aggressivi, molto demolitivi. Negli anni nostri la sopravvivenza è quasi del 90%, pur avendo ridotto di moltissimo l'entità dell'intervento. Quindi viene a dire, noi chirurghi serviamo a poco. No, in realtà... Non è così, eh? No, in realtà è che effettivamente non c'entra solo l'intervento chirurgico, che è fondamentale per rimuovere la neopresia. Ma quello che c'entra, soprattutto in questi dati qua, soprattutto nell'aumento della sopravvivenza negli ultimi periodi, negli ultimi anni, è lo sviluppo di nuove terapie, l'affinamento di nuove terapie, la personalizzazione delle terapie. Parlo di terapie oncologiche, terapie ormonali, terapie biologiche, immunoterapie, oltre che alla radioterapia, per esempio. Cioè, e il trattamento in ambienti adeguati, diciamo così. Certo. Noi andiamo, ci prendiamo un attimino di tempo, andiamo in pubblicità, poi parleremo delle terapie, delle donne che perdono purtroppo nel... quando fanno la chemio purtroppo potevano perdere i capelli, perché è una delle chemioterapie che fa perdere i capelli. Le parleremo subito dopo la pubblicità, rimanete con lui perché è molto interessante, tra poco.